Ciao, sai come fare a capire se ti manca la vitamina D? Ti spiego come. 1. Se hai la pelle scura, questo perché il pigmento della pelle agisce come un filtro naturale. Pertanto, se hai la pelle scura, avrai bisogno di una maggiore quantità di tempo per produrre una quantità adeguata di vitamina D. 2. Ti senti spesso debole, stanco e depresso. Questo accade perché la serotonina, che è l'ormone dell'umore, viene prodotta maggiormente in seguito all'esposizione solare, ricollegandoci così anche al punto precedente. 3. Hai più di 50 anni. È noto infatti che superata questa età, la vitamina D viene prodotta in quantità minore. 4. Se sei sovrappeso, questo perché la vitamina D è una vitamina liposolubile e il grasso corporeo agisce quindi attirandola e sottraendola dal circolo. 5. Hai dolori alle ossa, questo infatti è uno dei segni più precoci della carenza di vitamina D. 6. Ti suda la testa. Anche questo è uno dei segnali più comuni della carenza di vitamina D. Infine, 7. Se hai problemi intestinali. Se infatti hai una disfunzione intestinale, non sarai in grado di assorbire una vitamina liposolubile, quale appunto è la vitamina D. E avrai probabilmente necessità di integrarla. Spero che ti siano stati utili questi consigli e ti ringrazio per l'attenzione. Spero che ti ringrazio per l'attenzione.